Sono una bambina di nome Clara, era la sera di Natale e avevo ricevuto in dono uno schiaccianoce a forma di soldatino, che mi piaceva molto. Mio fratello Fritz lo doperò subito schiacciando in unoce troppo grande e gli ruppò una gamba. Mi era tristai, ma ormai era troppo tardi e andammo tutti a dormire. Nel sogno lo schiaccianoce ritraspò il nome di un bellissimo principe, mi prese per mano e mi fece volare in un morbidio canale. Arrivamo in un castello immenso e tutto illuminato. Subito entrai in un'ampia sala dove alcuni personaggi fantastici si misero a ballare con me. Arrivamo in un'ampia sala. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.